Finché ognuno cerca di accumulare per sé, non ci sarà mai giustizia. Se invece, confidando nella providenza di Dio, cerchiamo insieme il suo regno, allora a nessuno mancherà il necessario per vivere dignitosamente. Così Papa Francesco ha commentato un cuore occupato dalla fama di possedere e il tema della liturgia domenicale è incentrata sulla divina providenza. Davanti a decine di migliaia di ferie che hanno riempito Piazza San Pietro, il Papa ha sottolineato quanto attuali sono le parole di Gesù sul Padre che nutre gli uccelli del cielo perché ci ricordano che non gli può servire due fagioni, è la ricchezza. Il cuore posseduto dalla ricchezza, spiegato il profice, non c'è più molto posto per la fede. Se invece si lascia a Dio il posto di distenza, allora il suo amore comincia a condividere anche le ricchezze e a metterle al servizio di progetti di solidarietà e di sviluppo. Il cuore posseduto dalla ricchezza passa attraverso il nostro condividere le ricchezza con gli altri. È meglio condividere perché poi possiamo inserirlo soltanto quello che abbiamo condivido con gli altri. Invochiamo l'intercessione di magia con il tuo Papa perché tutti ci sforziamo di vivere con un'attività e un'attività, con un quarto attento e la necessità dei fratelli più bisognosi. Anche le ricchezze. Grazie. 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 Grazie.